Il buongiorno si vede dal mattino, in questo caso il sindaco è buongiorno, vista la gente. È la sera qua, adesso siamo di sera. Io sono felicissimo, contentissimo della, devo dire, grande e inaspettata partecipazione. Forse perché la gente ha capito che il nostro progetto parte dal basso, che non ha una coloritura politica e che si muove con giovani e meno giovani per creare le condizioni di prospettiva e di progetto per questo paese. Noi non abbiamo padrini o padroni politici, siamo le persone comuni che vogliono bene a questo paese e che cercano di dare continuità a questo paese sul piano amministrativo. Senti professore, il paesaggio come arma vincente per il paceco del futuro? Sì, ma non solo come per il paceco del futuro, ma anche il paceco di oggi. Io non penso che ci possano essere condizioni diverse rispetto alla cultura, alla bellezza. Cosa può attrarre questi nostri paesi rispetto al turismo di massa e al bellissimo triangolo che c'è attorno a noi? Pensa a Erice, Trapani, Marsala, Castelvergiano, Seicesta, più triangoli sostanzialmente. E allora perché non creare le condizioni per cui la gente venga anche a paceco, utilizzando la piazza, la bellezza di questa nostra piazza, o le stesse saline di Nubia, o lo stesso Dattilo, le piccole, belle, poche cose che noi abbiamo ma che dobbiamo sostanzialmente esaltare. Ecco perché io penso che bisogna puntare sostanzialmente su questo. Non ci sono altri strumenti, altri strumenti sono balle, banalità, per prendere in giro la gente. Solo in questo modo noi possiamo fare ritornare i giovani che vogliono ritornare in questo territorio. Che campagna elettorale vuoi? Ma è una campagna elettorale tranquilla, serena. Io penso che chiunque vinca, il problema dopo sarà quello di mettersi insieme e amministrare questo paese. Non penso che amministrare un paese di 12.000 abitanti possa determinare una dimensione di scontro, di faide, politiche. Perché ribadisco per quanto mi riguarda, e tu sai perfettamente qual è la mia identità politica, ma per quanto mi riguarda l'unico vero partito politico che in questo momento io assecondo è Baceco, il mio paese.